C'è una classificazione ufficiale riconosciuta delle cefalee, ci sono tanti tipi, nella classificazione ne sono riconosciuti 14, per semplificare un po' in genere noi riconosciamo le cefalee primarie che sono quelle in cui non c'è una patologia sottostante, la cefalea è la malattia stessa, da cefalee secondarie invece che sono quelle che vengono perché c'è un altro problema, un esempio comune è la cefalea da pressione alta, da ipertensione arteriosa. Ecco, iniziamo dalle cefalee primarie, quali sono e quali sono le loro caratteristiche? Allora, le cefalee primarie sono abbastanza diverse una dall'altra, infatti la classificazione che noi utilizziamo in campo internazionale ma anche in campo nazionale, abbiamo la versione tradotta in italiano, riconosce per ogni forma dei precisi criteri diagnostici, ad esempio l'emicrania è una cefalea che di solito ha dolore unilaterale, dolore pulsante, disabilitante, soggetto quantomeno limita l'attività quotidiana, a volte è completamente disabilitato, deve mettersi a letto magari al buio, oltre al dolore nell'emicrania ci sono sintomi di accompagnamento come la nausea, il vomito, appunto il fastidio per la luce, per il rumore, fastidio per gli odori e gli attacchi sono piuttosto prolungati, durano da 4 a 72 ore ovviamente se non sono trattati con i sintomatici e questo sarebbe il primo gruppo di cefalee primarie. Questa è l'emicrania, diciamo, emicrania senza aura, quella che si chiamava una volta emicrania comune, c'è un'emicrania anche con aura in cui questi attacchi che ho descritto vengono preceduti da sintomi neurologici tipo delle lucine, come degli zigzag, si chiamano fosfeni, sono come delle greche, degli zigzag che interessano il campo visivo, cominciano magari in un'area del campo visivo, poi magari si espandono. In alcuni soggetti oltre al disturbo visivo c'è magari anche disturbo di sensibilità, un formicolio che prende il volto o la mano, in altri soggetti addirittura c'è un deficit di moto e sono disturbi che durano poco, in genere si estinguono nell'arco di 60 minuti, poi a parte l'attacco proprio doloroso, quello tipico che descrivevamo prima. Diversa è la cefalee tipo tensivo, il cefalee tipo tensivo in genere ha un dolore più attenuato, noi diciamo che l'intensità del dolore è lieve e media, il dolore non è pulsante, non picchia come un martello ma viene definito come un peso che grava sulla testa. I sintomi associati spesso non ci sono ma sicuramente non c'è il vomito, al massimo può esserci un po' di nausea leggera, può esserci magari un po' di fastidio per la luce, però diciamo che è una patologia meno disabilitante nell'intensità dell'attacco, in realtà è la forma di cefalea primaria più frequente perché si calcola che arrivi a colpire 70-80% della popolazione generale. Poi c'è il terzo gruppo di cefalea, cefalea tensiva era il secondo gruppo, il terzo gruppo sono le cefalee autonomico-trigeminale che si chiamano proprio così perché sono caratterizzate dal fatto che il dolore proprio si localizza nell'area del trigemino, mentre l'emicrania può magari prendere la parte posteriore del capo, così pure la cefalea tensiva. Le autonomiche trigeminali proprio si localizzano nel territorio di innervazione del trigemino e autonomico-trigeminali perché si associano a dei sintomi vegetativi per cui c'è una ptosi palpebrale, la palpebra si abbassa, la pupilla si chiude, l'occhio lacrima, a volte c'è una chiusura della narice. Una caratteristica anche di queste cefalee è che sono unilaterali, sono strettamente unilaterali, esempio paradigmatico è la cefalea grappolo che appunto è una cefalea strettamente unilaterale, si chiama grappoli perché gli attacchi di mal di testa vengono raggruppati in alcuni periodi dell'anno che vanno da qualche settimana, 5-6 settimane e in quei periodi ricorrono più volte nella giornata, magari 2-3 attacchi, possono arrivare fino a 8 attacchi nella giornata che sono intensità molto forte, quella che si chiamava una volta cefalea da suicidio, di buono e che si autolimitano mentre, le dicevo, l'emicrania dura fino a 72 ore gli attacchi di cefalea grappolo non superano le 3 ore, la maggior parte dei pazienti si estinguono nell'arco di 40-50 minuti. Poi abbiamo sempre nelle forme primarie un altro gruppo, il quarto gruppo di cefalee che sono cefalee che di solito di breve durata sono tutte quelle che non sono emigrania, non sono cefalea tensiva, non sono cefalea grappolo però non sono secondaria a un'altra patologia e qui troviamo ad esempio la cefalea da orgasmo, quella che viene durante l'orgasmo, abbiamo la cefalea da freddo pure la cefalea, quella da occhialini da nuoto, sono in genere le cefalee che riconoscono uno stimolo ben preciso vanno studiate attentamente perché ad esempio in questo gruppo c'è la cefalea rombo di tuono il rombo di tuono è così chiamato perché viene all'improvviso, dura magari pochi minuti ma è molto intensa e crea problemi di diagnosi differenziali con altre patologie più serie perché ad esempio una rottura di un aneurismo in testa può manifestarsi con una cefalea che ha caratteristiche molto simili alla cefalea rombo di tuono per cui sono forme primarie in cui magari servono un po' più di attenzione per escludere che non ci sia un altro problema e poi ci sono tutte le forme secondarie e lì troviamo di tutto, ci sono le cefalee post-traumatiche quelle legate ad un trauma al cranio o alla colonna cervicale, poi ci sono le cefalee da patologia vascolare appunto la cefalea da aneurisma piuttosto che la cefalea che si vede dopo un ictus cerebrale poi ci sono le cefalee legate a infezione, le cefalee da malattia metabolica, le cefalee legate a problemi del cranio quindi a sinusite chiaramente può dare cefalea ma è una cefalea sintomatica poi ci sono le cefalee, c'è anche il gruppo delle cefalee psichiatriche soggetti che hanno fondamentalmente un disturbo psichiatrico e nel contesto di quel disturbo psichiatrico lamentano anche cefalee